Il basso di milla basina, con coraggio di promessei a farla, mano, mossa, mossa. È iniziata la 51esima edizione del Carnevale Passo Treiese. Domenica 7 febbraio, divertimento per i più piccoli con il Carnevale dei Bambini, con merenda per tutti, cabaret e tanta musica. Ormai è il 51esimo anno del Carnevale a Passo Treia, ci ricordiamo questi anni bellissimi, diciamo, del Carnevale a Passo Treia. È dall'anno scorso che abbiamo organizzato questo Carnevale con 5 serate, 5 serate anteprima Carnevale, che noi lo facciamo sempre di martedì, carnevale, fine carnevale. È due anni che abbiamo iniziato a fare queste 5 giornate di Carnevale con il tendone al coperto, riscaldato, non solo maschere, gastronomia, divertimenti. Abbiamo la mostra fotografica di tutti gli anni, riprodotta da noi, diciamo, presso la torre, il circolario di la torre. È riuscito benissimo come Carnevale, le prime due serate sono state bellissime. Martedì 9 febbraio Danilo Vizzini, direttamente da Zeli, che presenta la 51esima edizione del Carnevale. Alle 14 sfilate in maschera ad ingresso gratuito, con gruppi mascherati, musica, acrobati ed artisti di strada. A passo di treia la tradizione del Carnevale ha più di 50 anni, per questo gli organizzatori hanno voluto raccogliere i momenti più belli in una mostra fotografica, per far rivivere ai cittadini e ai turisti una tradizione molto sentita. Grazie a tutti.